Buongiorno a tutti, oggi si riparte per un nuovo tour a Londra, però più attrezzati questa volta. Adesso ci dirigiamo nella Q3, una sorta di autostrada per le biciclette. Gli Abbey Road Studios, queste dovrebbero essere le strisce pedanali. I Beatles hanno attraversato la strada, attraversando Marie Le Bonne, uno dei quartieri più conosciuti rinnovati di Londra. E' la cosa che mi colpisce di più perchè le strade siano completamente vuote. Eccoci finalmente a Light Park. Pieno autunno. Il piccolo cancello. Questo è il Big Bang. Oggi è un casino. Ora vedremo London Eye. Bellissimo. Oggi è la giornata della memoria in Inghilterra. Tauere Bridge. Tauere Hill. Succede anche questo a Londra. Ci stiamo arrivando. Questo è il parchetto. Che emozione. Questa è esattamente la prima casa. che noi abitavamo al secondo piano nella terza porta al numero 31 se non ricordo male. Non mi ricordo. Direzione. Che direzione? Sì, Olympic Park. Ci siamo quasi. Best time. United States. In teoria io dovrei passare là. Non sembra che l'acqua sia abbastanza profonda. Il corso è bloccato dall'acqua. Ok, proviamoci. Sì, abbiamo bisogno di fare l'acqua. Oh, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì! Ciao, ciao! Ciao, ciao! quello è lo stadio del tottenham alla fine ha vinto la salita sto per raggiungere alexandra pala skyline di londra non si vede benissimo campbells house campbells house Questo signore mi ha copiato l'outfit 55 chilometri morto Ciao